Musica Bella a tutti, bentornati sul canale di GeneticDNA e continuiamo le avventure con The Last of Us E buona visione, ciao ciao Dai, forza, riprovati Bravo, mi nascondete di casa, magari mi salvate Peña diputata Grazie 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 Ma che vai tutto questo? Andiamo! Prendetelo ragazzi! Non puoi nasconderti per sempre! Non puoi nasconderti per sempre! Non puoi nasconderti! Non puoi nasconderti! Parola rischia! Ehi, dove siete? Prendetelo ragazzi! Se non l'aspirai, te le metterai! Controlliamo qui! Vai, là sotto! Ehi, dove volete andare? Dove volete andare? No, non è così! 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 Ehi, dove siete? No, non è così! Continuiamo a cercare, forza! Controlliamo qui! Dove è quel tipo? Ti ho fatto male? Eccolo qui! Proprio qui! Questo territorio è nostro! Sono ancora i vostri culi! Non sarà un'auto a salvarvi! Non sarà un'auto a salvarvi! Travissare! Ancora! Travissare! Dove ne vanno! Non ci sono state riuscili... Non ci sono state riuscate... Non ci sono state riuscate... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dove credi di andare? Grazie a tutti. 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 Forza ragazzi, porca puttana. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, 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 no. Grazie a tutti. 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 Muoviamoci. No, 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 no Ma smettila dai No, sono serio Era il compleanno di Tommy Tutto quello che voleva fare era Affettare Edward e attraversare il paese Ah, amico Morirei felice se potessi fare anche solo il giro del palazzo E com'era? Era bella, molto bella Bella? Ma lo senti? Dai, amico, voglio i dettagli Descrivila Sapete cosa? Voi due avete bisogno di privacy No, no, Ellie, Ellie Senti, non si tratta di una moto qualunque, ok? Quando sali su quel bolide e senti il motore È indescrivibile Ah, sì, e come lo sai? L'ho visto nei miei sogni Brum, 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 brum Ok Credo che non verrà nessuno del nostro gruppo Già E ora la parte più difficile Spiegarlo a Sam Beh, si può dire che quei due hanno fatto amicizia Tu che fai? Archivio tutto il cibo che abbiamo trovato oggi Capisco E come siamo messi a pesche sciroppate? Ti ha mandato Henry? No Perché avrebbe dovuto? Per controllare chi non faccia cazzate Direi che ce la siamo cavata bene oggi Soprattutto tu E va tutto bene? Sì, tutto a posto Ok Allora Buonanotte Come fai a non avere mai paura? Chi dice che non ce l'ho? Cosa ti spaventa? Vediamo Gli scorpioni sono spaventosi Rimanere da sola Rimanere da sola Ho paura di restare sola E tu invece? Quei cosi là fuori E se le persone fossero ancora dentro Se fossero intrappolate E non avessero il controllo del corpo Ho paura che succeda anche a me Ok Per prima cosa Siamo una squadra Ok? E ci aiuteremo E poi Potrebbero sembrare persone Ma quello che erano Non è più lì dentro Harry dice che hanno Voltato pagina Che sono con le loro famiglie Come in paradiso Credi che sia così? Un po' sì e un po' no Intanto Mi piacerebbe crederci Ma non ci credi? No, non proprio Già Nemmeno io Oh Con questi discorsi seri Quasi dimenticavo Tieni Se non sa che esiste Non può portarlo via Ok Sono esausta Ci vediamo domani E' un buon profumo Buongiorno Buongiorno Dov'è Sam? L'ho lasciato dormire per una volta Ah Beh, se vuoi che ci raggiunga Puoi andare a svegliarlo Ok Sam Sam Oh che Dio Merda Si trasforma È mio fratello Cazzo Fa un culo Merda Merda Henry Henry stai bene Oh mio Dio Sam Merda Oh no Sam Henry 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 Che cosa hai fatto Ora dammi quella pistola Ok 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 Piano È colpa tua Non è colpa di nessuno Henry È tutta colpa tua Henry Questo gameplay Lo faccio finire qua Questo è finito molto male Ciao ciao Ai prossimi Ciao